Buonasera, buonasera e bentornati al canale Adesso, sto seguendo NFL Network, ho appena girato su NFL Network E per proprio di NFL voglio parlare Voglio parlare perché da molto che non ne parlo Se disputate in settimana La decima giornata, diciamo, da regolar SISO Scusate che metto un po' giù il volume Allora, si è disputata la decima giornata della regolar SISO Una giornata piena di sorprese Non ho fatto il video sulla nona Ma anche la nona non fu da meno Allora, partiamo dalle big, diciamo Dopo la caduta dei Patriots con Baltimore Alla nona giornata Lunedì notte sono caduti i 49ers All'overtime con lo Seattle Una bellissima partita Piena di capovolgimenti di fronte Aveva iniziato bene i 49ers I San Francisco 49ers Poi nel secondo quarto Tra il secondo e il terzo quarto Seattle si è rifatta sotto e è andata avanti Un'alternanza Sorpasso e contro sorpasso Sono andate all'overtime Più volte sia l'una che l'altra Non hanno avuto la possibilità di vincere La decide una grandissima giocata di Russell Wilson Che con lo snap dalle sue 30 yard Se non sbaglio Fa una zingarata raggiungendo le 40 yard Della metà campo dei 49ers E negli ultimi secondi La decide un field goal di Myers Il kicker Il kicker dei Seahawks Seahawks E questo era praticamente uno scontro diretto Nella divisione NFC West Che quest'anno sembra essere quella più competitiva dell'NFL NFC West dove abbiamo i 49ers Sempre avanti con 8 vittorie e una sconfitta Davanti proprio ai Seattle Seahawks Che hanno invece 7 vittorie e 2 sconfitte Sono ancora in corsa per i playoff I Los Angeles Rams Che hanno perso a Pittsburgh Però hanno ancora un record positivo Quindi sono in piena corsa Per la wild card Perché penso proprio che Seattle e San Francisco si giocheranno L'accesso diretto ai playoff In questa divisione Dicevamo Dicevamo A proposito di playoff Di playoff Ecco Quest'inizio di stagione Sembra un po' la fotocopia della stagione 2013 Abbiamo 4 squadre che stanno facendo bene I soliti New England Patriots Dall'altra parte I Green Bay Packers Di un ritrovatissimo Aaron Rodgers Spettacolare Contro i Carolina Panthers Un avversario molto difficile I Carolina Panthers quest'anno Eppure grazie alla classe di Aaron Rodgers I Green Bay Packers A Lambeau Field Sotto la neve Mitico il Lambeau Field Innevato Sotto la neve Sono riusciti a battere i Panthers Del nuovo quarterback Come che si chiama Allen Kyle Allen Invece quello di Buffalo E Josh Allen Allora Dicevamo i 49ers Che hanno perso la prima partita Solo domenica scorsa Ma un paio di vittorie Sono praticamente ai playoff Green Bay Packers E le altre due Sono i soliti Patriots Come abbiamo detto E i Baltimore Ravens Che sono la squadra più calda del momento Dopo aver vinto Aver battuto abbastanza nettamente In casa di New England Patriots Lamar Jackson e compagni Sono andati a vincere Alla grande In un incontro della stessa divisione Con i dei I rassegnati Sissinati Bengals Hanno dato 49 punti Li hanno massacrati letteralmente Ecco Queste quattro squadre Gli appassionati di NFL Sicuramente ricorderanno Sono le stesse Quattro Che Si giocarono Le finali di conference E il Super Bowl Nel 2013 Baltimore Vinse in casa dei Patriots La finale di conference Della FC Mentre San Francisco Vinse contro Green Bay Ci fu il Super Bowl Baltimore Contro San Francisco Scusate Baltimore contro San Francisco Gio Flacco Gio Flacco Il vecchio Gio Flacco Oggi a Denver Contro Colin Kaepernick Che praticamente Non lo vuole nessuno Dopo che è stato fermo Per la questione Del razzismo E vinse Una partita Tiratissima Ricordo benissimo All'epoca Lo davano su Sport Italia Vinse una partita Tiratissima Mi sa 21 a 14 Una cosa del genere Vinse una partita Tiratissima Baltimore Fu decisivo Un lancio Alla fine Gio Flacco Se non ricordo male Con i 49ers Che meritavano Di vincere E purtroppo Furono sconfitti Da allora Poi i diners Piombarono Un po' il caso Kaepernick Un po' Lo smembramento Del roster Piombarono In una crisi Della quale Sembrano usciti Alla grande Quest'anno E queste Sono le quattro Squadre guida Allora Detto dei 49ers Detto dei Green Bay Cioè Detto dei Petros Che hanno riposato Detto dei Baltimore Ravens Che hanno Praticamente Travottosi Insinnati Sono praticamente Cioè I Ravens Ragazzi Sono praticamente I playoff I Baltimore Ravens Sono praticamente I playoff Considerato Che Cincinnati E Cleveland Sono ormai Fuori dai giochi Anche se Diciamo Che Sono in piena Ripresa I Pittsburgh Steelers Che Da quando Hanno parcheggiato Ben Rocklisberger Che mi sa Che è infortunato Sono tornati Dopo un pessimo Inizio Ora hanno Addirittura Un record positivo E sono in piena Corsa per la wildcard I Pittsburgh Steelers Non penso Riusciranno A Insidiare I Baltimore Ravens Perché In questo momento Sono la squadra Nettamente più in forma Della Liga E Pittsburgh Steelers Che come ho già detto Hanno battuto I Rams Dicevamo di Green Bay Green Bay Nell'NFC Green Bay E' in testa L'NFC Con 8 vittorie Due sconfitte Non ancora riposato Contro Di una lunghezza Su Minnesota Sui Vikings Cousins Compagnano Vendo una gara Molto bella In casa Di Dallas Cowboy Minnesota Al momento Delle seconde Della NFC E quella messa meglio Oggi Giocherebbe Con la Peggiore Delle vincenti Della NFC Che Al momento Sono proprio I Dallas Cowboy Sono proprio I Dallas Cowboy Che Se la giocano Con Philadelphia Per l'accesso Ai playoff Entrambi Hanno un record Positivo Per la Wildcard La NFC E' Molto Molto Equilibrata A quanto vedo Ci sono Dallas E Philadelphia Che Sono Hanno lo stesso Record Poi c'è Minnesota Che è quella Nettamente messa meglio Ma Stanno bene A chi Carolina Panthers Hanno un record Positivo E i Los Angeles Rams Anche se C'è Seattle Che ha 7-2 Come Minnesota Al momento Andrebbero Seattle E Minnesota A fare la wildcard Ma le altre Hanno tutto un record Positivo Quindi E' una NFC Che ancora una volta Si dimostra Come la Molto più competitiva Rispetto Alla AFC Dove Oddio Adesso c'è Baltimore Almeno I Petriors Hanno un avversario Almeno I miei Petriors Hanno un avversario Con cui misurarsi Sempre Per la NFC In calo I Kansas City Chiefs Ma oramai E' E' Fisiologico Ogni anno Partono a raso Per poi calare E adesso E adesso Diciamo che Il primo posto Nella divisione Per i Kansas City Non è più Tanto al sicuro Anche perché Hanno adesso I Chargers I Chargers E gli Oakland Raiders Alle Calcagna Oakland Raiders A 5 vittorie E 4 sconfitte Il contrario I Los Angeles Chargers E mi sa che Stanotte C'è proprio Kansas City Los Angeles Chargers Una vittoria Dei Chargers Attenzione Rimescolerebbe Praticamente Tutto Cioè Risucchierebbe Kansas City Nella bagarre Nella bagarre Dove potrebbero Rientrare Anche i Denver Broncos Con un risultato Positivo Per la AFC Sud Ha riposato Houston E Jacksonville Tennessee Tennessee Che ha abbattuto I Kansas City Chiefs Che si è rimessa In corsa Per i playoff Corsa i playoff Ed è clamorosa La sconfitta Per questo Una giornata piena Di sorprese Clamorosa La sconfitta Di Indianapolis In casa Con i Miami Dolphins Clamorosa Ma Non tanto Perché Ci può stare Della giornata storta Ma per come Ha giocato Miami Miami Era inguardabile Fino a due o tre gare fa Ora Reduceva Due vittorie di fila Qui Oddio I playoff Sono una chimera Dovrebbero vincerle Tutte E forse Neanche ce la fanno Però Considerato L'inizio stagione Dove prendevano 50 punti A partita Adesso sono Due vittorie Consecutive Hanno battuto New York Jets Hanno battuto Fuori casa Indianapolis Almeno Detto di Detto Della divisione sud Che Vede Houston Che ha riposato Vede Houston Favorita Chiaramente Deshaun Watson Non può mancare I playoff Nonostante Che abbia subito Quella sconfitta Con Indianapolis Adesso le cose Sembrano di essere Indianapolis Questa sconfitta Che secondo me Si farà sentire Anche perché I Tennessee Titans Sono lì Sono una bella squadra I Tennessee Titans Una di quelle squadre Rognose Tipo Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Che ha vinto Tipo quella squadra Difficile a superare Ah Dimenticavo Proprio di Tampa Bay Buccaneers L'altra sorpresa Ritorniamo All'NFC A sud E la sconfitta Dei New Orleans Saints In casa Con gli Atlanta Falcons Che avevano Un record Di 1-7 Ma una brutta Sconfitta Netta 26-9 Una cosa del genere Brutta sconfitta Per Drew Brees E compagni Drew Brees Che sembra ancora Convalescente Io avrei Visto Il Drew Brees Di oggi Per non rischiare nulla Farei giocare Altri due Tre partite Bridgewater In modo da recuperare Il miglior Drew Brees Chiaro Anche perché Drew Brees Ha comunque Una certa età E reduce Da un brutto Infortunio Io penso Che il coach Dovrebbe far Giocare Questo Bridgewater Che non ha Sfigurato Anche perché Delle due sconfitte Dei Saints Una c'era in campo Brees Quindi siamo Uno a uno Volendo Quindi io Nei panni Del coach Darei ancora Fiducia Bridgewater Fino a Fino al recupero Pieno Di Drew Brees Dicevamo Di Carolina Panthers Finalmente Ecco Carolina Come Tennessee Titans Sono squadre Non eccelse Ma Difficili da superare Che possono dire La loro In questa Questo finale Di stagione Concludo Con Baffalo Che aveva Dopo la sconfitta E il Bye Il turno di riposo Dei New England Petros Aveva l'opportunità Di accorciare Le distanze Da Brady E compagni I quali Non hanno ancora Metabolizzato Forse L'inserimento Di Sanu In attacco Baffalo Che poteva avvicinarsi E invece Ha perso A Cleveland Ma Baffalo E così Baffalo A gioco forza Perché ha due squadre I Miami Dolphins E i New York Jets Che hanno vinto Il derby Con Con i Giants Due squadre Non eccelse A proposito Del derby Fra New York Del MetLife Stadium Fra New York Jets E New York Giants Una partita Molto Altalenante Dove Alla lunga I Jets Si sono fatti Preferire E non è un bel momento Per le squadre New York Dal punto di vista Sportivo I Giants Fanno cagare I Jets Un po' Meno Ma sempre Cagare Fanno I New York Jets In NBA Sono ultimi Nella Instant Conference Cioè Il baseball Non lo segue Non me ne frega niente Nel calcio Mi sa che New York Non se la passa Tanto bene E' un brutto momento Pello sport New York Ese questo Comunque Appassionati di NFL Ditemi la vostra Iscrivetevi al canale Tanti like E ci vediamo Ciao 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 Ciao